Torna, torna, c'è stato l'acqua, c'è stato l'acqua, torna. Pasha! 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 C'è kare mi koni? Pasha! Mi darsi id! Kudi Pasha! Kudi Pasha! Nekon, sa'cendè! Sa'cendè! Pasha! Sa'cendè! Pasha! 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 Pasa! Pasha! Sì a te mi fanno non è la mia io mi fanno mi fanno mi fanno mi fanno mi fanno mi fanno che mi fanno mi fanno di sto di scuola tu non mi fanno con un po' di portogali e qui ma non è così perché vuoi? perché vuoi? guarda il po' di guarda non è così è molto tranquillo mi piace di un style non è così è un po' di più una cosa di freddo un po' 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 di freddo tutti i ragazzi non guarda non guarda ... . . . . . e adesso usiamo in questo caso è stato molto utile il giudizio di questo è stato difficile questa non è stato facile è stato un problema e possiamo andare dentro immaginare a questo simile è stato un problema per fare il suo messaggio e non ho il mio chai un po' di più sono molto più amici la mia casa è inizia che il pieno di ponte è molto molto che ho scoperto e sono inizia questo è un giorno prima che ho scoperto questo è un'Ucare di Codi io ho messo in casa e lo mettere in casa e la ricetta lo mettere in casa e lo mettere in casa è molto grande un po' di farlo ho ho potuto non posso mettere in casa ma mi piace molto ma mi piace molto grazie sono molto ora mi sento un po' di più mi sento e mi sento il cuore 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 non ci sono riechiti in gioco Dermatgan Ok, questo è stato di Codì che vuole Codì, tu del tutto ciò che vuole? Codì? 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 Cuesti qua? Codì? 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 Codè? Non batho ho cercato ma inерьез che? Codì? O abs . Ó ma c'è il giorno si è venuto si è venuto mi piace molto bene e mi piace non mi riuscione non mi riuscione mi riuscione è un buon è un buon il buonio di questo ciò che è un progetto e non lo so è un buonio è un buonio un buonio si è un buonio ma io mi sento non lo so il video non lo so il bambino che è un buonio il ruito del giù Iscriviti io ho fatto un po' qui mi sento e vedo ok siamo pronti adesso siamo pronti ora siamo pronti ora siamo pronti ora siamo pronti ora siamo pronti il video quando si è iniziato questo video è stato pronti perché ho detto che ma sempre la mia vita ma anche i miei ma anche i miei non sappiamo che ho provato non vedo che ho provato ma non vedo che ho provato perché perché la prima cosa è stato in cui ho provato perché ho provato un po' di più ma è stato un po' di più questo è stato molto io ho provato un po' di più e non mi piace e questo è il mio cuore e vediamo che in questo modo in questo modo vediamo che se si è meglio poi ci sono il mio cuore è stato molto è stato molto il mio cuore non c'è ci hanno fatto non vieni che vedo ma bravo pepe mi va sapere il famoso mi vorrei mi vorrei mi vorrei vieni mi vorrei mi per Professor di mi vorrei non posso che mi capire che mi mi capire mi mi io sono molto più tardi io sono molto più tardi io sono molto più tardi ma comunque iniziavole il mio figlio e il mio figlio e il mio figlio ci vediamo in quanto riguarda ci vediamo ci vediamo Siamo arrivati alla prossima Sì! grazie a tutti grazie a tutti